Sono stata a Londra con Schenker per fare una full dimension di Business English. È stata una settimana estremamente impegnativa, molto molto proficua e anche molto divertente. Quindi devo dire che è stato per me un giudizio ottimo come qualità del servizio, come programma svolto e tutta la settimana tutto quello che sono riuscita a fare, a riparare, a cattare, perché comunque stare a Londra, anche se ero un gruppo di italiani, però stare in un albergo dove si parla sull'inglese, girare per la città dove senti comunque un altro suono, un'altra lingua è fondamentale. Per riuscire poi, in sede, in classe, riuscire a capire meglio cosa ti stanno dicendo. Quindi sì, è stata un'ottima esperienza. Io sono partita con Schenker per fare questa full immersion perché avevo necessità di rinverdire il mio inglese perché ho cambiato lavoro e mi serviva una fluency nello speaking che avevo un po' perso perché ho fatto una serie di corsi anni fa e avevo un po' abbandonato. E quindi si è presentata l'occasione di partire per questa full immersion che è appunto il business English che in gran parte del programma che abbiamo svolto è esattamente quello che a me interessava, come gestire una riunione piuttosto che prendere una telefonata, aspettare appuntamenti e quant'altro perché ho necessità di parlare con dei fornitori che sono di lingua anglofona. E quindi niente, sono partita per questo motivo e sono stata più che soddisfatta. Bene, ricominciare di nuovo a riparlare una lingua che si che leggi in tante le canzoni che vedi film eccetera, quindi ricominciare a parlare è completamente differente rispetto a quello che potevo fare nei corsi precedenti, in cui era un'inglese molto formale che probabilmente avrei l'occasione di sfoggiare di fronte alla regina e questo non mi può capitare. Invece per quanto riguarda uno sping informale e quotidiano, devo dire che con lo Shanker mi sono trovata molto meglio rispetto a scuole che precedentemente avevo presentato. A chiunque abbia voglia di imparare in poco tempo a gestire una conversazione, a capire cosa ti succede intorno e a essere padrone del linguaggio, ovviamente non puoi conoscere tutti i vocaboli almeno a dito perché dovresti vivere lì, però sei, arrivi a un livello molto alto in cui riesci a capire veramente tutto quello che ti succede intorno e quindi sì, consiglio vivamente a chiunque abbia necessità in breve tempo oppure che abbia voglia di apprendere una lingua a pieno. È successo, rientro dopo appunto una settimana di full immersion che avevo necessità di ricambiare delle sterline che mi erano avanzate e all'aeroporto c'era questo semplice e la ragazza del customer era una ragazza ovviamente inglese che parlava a velocità supersonica e come ho aperto un buco ho detto oddio, invece poi lei ha parlato velocissimamente e sono riuscita a capire tutto e sono stata molto soddisfatta di me stessa e sono riuscita a capire i soldi e non essere fregata. La full immersion in una sola parola non è possibile, la full immersion è molto impegnativa ma molto molto profigua quindi io ripeto la consiglio caldamente, dopo una settimana, ecco a me quello che è successo è proprio il giorno che sono rientrata a Roma sei talmente abituato a sentire per sette giorni e mi segui da un'altra lingua, un altro suono che ritornata a Roma, arrivata a casa, prendo la macchina a coprire di sigarette mentre entravo dal tabaccaio c'erano delle persone, delle signore italiane ovviamente che parlavano ci ho visto 10 secondi a capire cosa stavano dicendo perché ormai il mio orecchio girava su altri suoni quindi ha funzionato